Lui è felice sperpero, vive ogni giorno della sua vita come se fosse l'ultimo. Lui invece è della classe primo, da sempre impegnato a costruirsi un futuro migliore. Cos'hanno in comune? La polizza d'oro di Alleanza, che offre all'uno un piano di protezione per sé e la propria famiglia e all'altro un piano di risparmio garantito. È bello fidarsi di chi ti conosce davvero. Alleanza, alleati per la vita. Prima della sottoscrizione leggere la nota informativa delle condizioni di polizza.